Una parte degli avamposti di Versailles entrava per le porte sguarnite della città. Louise! Louise! Alois! Pierre! 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 Sono qui! Ti stavo a cercare! E me ne sono accorta! Adesso ho capito perché ti chiamano a fare il banditore di piazza. Hai capito? Quanto urli, quanto! Eh lo so. Ma te che stai a fare qua fuori? Prendo aria, Pierre, e guardo le stelle. Guarda che belle! Alois! A me mi sa che te stai a confondere! E quelle mica sulle stelle! Quelle sulle scintille dei cannoni! Altro che stelle, Louise! Ma lo vedi che non capisci niente? Te devi guardare oltre e oltre il tuo naso, verso l'orizzonte, Pierre. E allora, solo allora, vedrai le stelle. Sara? Sì, i cannoni! Ti piacciono, eh? Chi? Ti piacciono i cannoni? Lo so, Pierre, piacciono anche a me, barbari quali siamo! A noi piace la musica di quei cannoni, il suon della battaglia, il tuon della mitraglia, Pierre! E noi canteremo con essi, perché presto la madre delle rivoluzioni nella sua piena ci travolgerà. E allora, solo allora, canteranno quei cannoni! Sì! Belle parole, eh! Mi piace come parli! Sono epica, Pierre! Infatti! Ma io in realtà preferisco la musica... quella dei concerti. La musica del concertone stasera! Quella è musica, Louise! Mica quella dei cannoni! E dai e saccia! Quella è musica! Ma certo, certo! Ma anche quella è bella! Ma ti pare! È bellissima! È stato un bellissimo concerto! Ma puoi mettere la musica delle cannonate contro quelle carogne di Versailles! Pure quelle! Non vedo l'ora, non vedo, Pierre! E che a me quella musica non è che mi piace sempre sempre! A lui? Come no? Fatte spiegare! Allora, quando siamo noi che le suoniamo e le cantiamo, allora a me quella musica mi piace! Ma proprio per niente! Ti capisco, Pierre! Ma ricordati che a questo mondo nessuno ti regala niente! Qualcosa te la devi pure guadagnare! Vita o morte! Perché noi canteremo! Canteremo morendo realizzando l'ambizione di ogni schiavo, Pierre! Quello di spezzare le catene! Belle parole! Mazza quanto sei epico! Grazie, hai capito! Ma mica so tutti come te sa! Mica tutti c'hanno sto fuoco dentro quando parlano! Mica tutti c'hanno sta voglia di andare a morire sulla barricata! Oh! A lui! La verità è che io quando sto sulla barricata... Io mi cago sotto! Luisa! Ma dopo che farai? E che vuoi che faccia, Pierre? Io starò sempre sulla barricata a mio agio in mezzo alla tormenta perché sembra che ogni cuore che batte per la libertà debba guadagnarsi solo un pezzo di piombo e allora, Pierre, io voglio la mia parte! Ma che stai a dire? Ma come che sto a dire, Pierre? Sono epica, epica! Ho capito! E vanno a morire, sto a galvanizzare, che devo fare? E tu ho capito! Ma io mica stavo a parlare! Che fai dopo? Sono la barricata, il cuore, il piume, le schioppe, schioppercate le bombe! Io non ti stavo a dire! Le parole, per carità! Cioè il fuoco dentro mi piace, se è epica! Però quello che ti stava a mandare, che fai dopo? Cioè dopo da adesso, adesso dopo, dopo da adesso, capito? Adesso subito, dopo subito! Capito? Cioè mostri a parlare dopo, vado a mangiare, vado a bere, vado a dormire... Che fai? E che faccio? Vado a casa! Mi vado a riposare! Oh! E a questo punto, se permetti, io ti accompagnerei più a casa, sai come... Che? Sì, secondo te? Te blocchi! Luis Michel c'ha bisogno di te che l'accompagni a casa! Eh no! Riformula! Allora famo così! Non è che niente niente tu, Luis Michel, mi accompagneresti a me a casa tua? Lo vedi? Così è meglio! Eh no, ma visto che dobbiamo morire, Luis, almeno famosela via bene! Eh no! Eh no! Eh no! Eh no! Scusa, ma dovrebbero fare la guardia alle porte della città e invece si mettono a dormire! Eh dai! Vieni! Vabbè stanno a fare la penica ma che tu qui! Ma come penica? Ma stiamo in mezzo a una rivoluzione! Ma non ci possiamo addormentare così scusa, vi è arrivata la sveglianata! Ma andando andandola! Ma i mortacci vostri mi avete rovinato la serata! Forse era l'ultima serata della mia vita! Sveglia! Allerta! Ah Luis! Ammazza come dormono! A me mi pare non morti! Amazza come dormono! Amazza come dormono! Amazza come dormono! Grazie a tutti